Ci sono noci, ci sono castagni, non lo so, però so. Sono un altro da mare. E' chiaro, c'è l'altro che è scuro. A me sembra che abbia ragione di lei. A me sembra che tu sia il bianco. Porco Dio, a me già non me ne frega la mazza. Poi mi devono dire cose, perché qua abbiamo fatto una discussione con mio cognato e il cacciatore che è venuto là. E' addomo d'osso, c'è solo uno che lo vede. Come ci fa il martapane? Bianco e nero, chiaro, scuro. Allora, marzapane, la ricetta, siciliano. C'è il ricetto a cercare. Il tesoro e la marzapane lo fanno in Sicilia con le mandorle a mare. Ma lo sai che il martapane non c'è bianco. Il mercato che lancia le grete. Guarda che mio cugino, io avevo un cugino che lo cercherò. Io non lo so, perché non ci capisco. Il mio genio le ha mandato a ordinare. Quando le ha viste perché gli abbiamo dato questo fuoco. Con le mandorle a mare. E' buono, non da buono. Ma quando l'ha letto, io mi sono arrivato a troppo. Porco lì, sono sbagliato a ordinare. Perché c'è l'altro che è scuro. E lui lo fa con vino nero. Non voglio mettere le mani sul fuoco. No, no, perché ti bruci. Stai tranquillamente. Anch'io non sapevo. Io non sapevo ne uno e ne l'altro. Quello è arrivato solo con il mio cuglio. Ma c'è un argomento. Mi sembrava che un'altra pane con te. Ma c'è un argomento che vuoi. Eh, così la fai i pezzi. Eh, hai pezzi. Hai pezzi? 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 Quattro. Quattro. Vabbè ma la nostra.